Musica Facciamo via di pista, ti scudo due o tre cose Sequenza di buche Fabio, nella sequenza di buche devo stare in posizione leggermente arretrata è meglio usare una marcia lunga, quindi gas nei salti, bisogna calcolare bene la salita per atterrare nella discesa Giro di pista nel pistino qua dell'Aventus School per l'ultimo corso dell'anno Musica 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 Grazie a tutti.